Allora, signore e signori, sono le 9.30, ecco a voi i ragazzi del Campo Missionario Regionale 2013. La vita è chiaro, ci rivela, che non si vive se non si cerca la verità. Se le strade arriviamo a Roma, se passi nella fede, sentiamo l'ecco della parola. La vita è chiaro, ci rivela, che non si vive se non si cerca la verità. La città di Piazza è il sangue e il vero amore, ed ha cambiato il vecchio mondo, vogliamo ripartire. E quando Cristo insieme al centro rinasce in noi la fede, parola viva che ci rinnova e cresce in noi siamo qui. Sotto la stessa luce, sotto la sua croce, è andato ad una voce. Sotto la stessa luce, è andato ad una voce, è andato ad una voce, è andato ad una voce. Sotto la stessa luce, è andato ad una voce.